I carabinieri hanno fatto luce sulla rissa, anzi la spedizione punitiva che dieci giorni fa, era la notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno, a Nocera Inferiore provocò l'aggressione di un giovane di 25 anni. 11 persone sono state denunciate. I militari del reparto territoriale di Nocera Inferiore grazie ad alcune testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza sono riusciti ad identificare i componenti del gruppo che aggredirono il giovane colpendolo con due mazze da baseball. La catena di violenza era stata innescata perché la vittima aveva palpeggiato una minorenne approfittando della calca all'interno della galleria che collega Piazza del Corso a via Barbarulo. La reazione degli amici della ragazzina si è tramutata poco dopo in una spedizione punitiva. Il 25enne fu picchiato e costretto ad essere trasportato al pronto soccorso. È stato denunciato comunque per violenza sessuale. Grazie all'immediato intervento dei carabinieri la rissa fu sedata e furono fermati gli aggressori, due giovani di 17 anni ed uno di 18. Le indagini hanno consentito di individuare gli altri componenti il gruppo di giovani che volevano farsi giustizia da soli. I militari hanno anche denunciato per favoreggiamento personale due persone che, amici dei gruppi rivali, avevano reso dichiarazioni rivelatesi poi false nel tentativo di coprire le responsabilità dei rispettivi amici. Grazie a tutti.